Il Movimento 5 Stelle a Mesagne correrà con il sindaco uscente Tony Matarrelli. L'autoricandidatura di Carlo Ferraro a primo cittadino con il logo dei grillini e in antitesi a Matarrelli non è stata condivisa dai vertici del movimento che proporrà dunque una propria lista con 16 aspiranti consiglieri comunali ma non un suo candidato sindaco. Rinuncia invece in partenza l'ex sindaco Pompeo Molfetta. Il suo movimento libero e progressista non scende in campo e lascia libertà ai suoi elettori di votare secondo coscienza. Ancora più clamorosa potrebbe essere l'assenza non solo di un candidato sindaco ma persino delle liste dei consiglieri per due partiti di centrodestra che guidano il governo nazionale Forza Italia e Lega, il mancato accordo con Fratelli d'Italia che ha deciso unilateralmente di costituire una lista e di scegliere un proprio candidato sindaco, Vincenzo Lotesoriere, ha di fatto frantumato il fronte di centrodestra. I candidati sindaco a Mesagne dunque potrebbero essere solo due, Matarrelli sostenuto da ben sei liste civiche, oltre a PD, Movimento 5 Stelle e forse socialisti italiani, e Lotesoriere sostenuto da Fratelli d'Italia. Si profilano duelli secchi anche negli altri due comuni del Brindisino in cui si voterà. A Erchie il già tre volte sindaco Giuseppe Margheriti del centrodestra sarà sfidato dall'imprenditore Mimmo Valente per il centrosinistra. A Villa Castelli il sindaco uscente Giovanni Barletta, centrosinistra, se la vedrà con Pietro Franco, consigliere uscente della Lega.